I said hey you, perfectly on cue, at the end of the night As I recall, I said hey babe, when you walk my way, you caught me on fire Oggi non è bagaglio, non te lo posso dare il calcio, quindi... Come sempre non c'è una minca da guardare Sopra? Sta arrivando l'austressore, potete vedere che la trollo eh, guardate Un'uscita più vicina in caso di... E invece no Ti torno le strisce pedonali anche in aeroporto Tu stai malissimo già all'orto del mattino Ma partendo Giorgio, sei pronto? Spesso sto per gioco l'accelerazione della pomo Un segno di stagione Credo che vi ricambi occhiali così mi confondo un po' e non capire per certo, certo, esattamente Non ho capito un cazzo, perché ho dormito tutto il tempo Ho dormito esatto, fuori un'ora e trenta dormito Eh scusate un attimo ragazzi ho deciso di tradire la giunta smetti di fare le foto alla mia macchina Vabbè ma ho mai cattato il problema, non ci cagheriamo Ma non fa però attento non andiamo a strisciare a debito di stanza per favore La Polo si è evoluta, si è digi evoluta Ma questa volta ti capisce questo cambio Ti è piaciuta? Finché era dalla 600 alla Polo o no? Ma lo riveliamo La firma? Sì esatto c'è il momento firme, sembro tipo schiavizzato Ci stiamo scambiando in realtà le firme Cioè stiamo scambiando le firme Io voglio tipo 45 firme di muro e ve le prendo Io ne prendo 39 belli spawn Io non mi prendo le mini testone Vecchio giustamente era tutto a zio Siamo in uno showroom Perché vogliamo dare un restyling diciamo al nostro guardarobba Da cosa partiamo? Dalle maglie? Dai maglioni si dai Allora diamo un'occhiata Nero? No beh nero però Militare? Militare però sta passando di modo quindi vediamo qualcos'altro Allora Tu è chiaro? Eh aspetta Sì si è sul schiavizzato magari sul bianco Questo settore magari lo lasciamo ecco chiudiamo e passiamo agli altri Tutta roba è di scarsa qualità Attenzione sono arrivati attenzione sono arrivati noi abbiamo già lavorato e loro a lavorare Vai ma ciòscia lavora forza Fattura Lavora ma ciòscia bravo Cioè sai qual'è la cosa dire? Lavora 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 Un siciliano mi dice a me? Poi non mi sa Lavora Beh guarda il milanese imbrottito Lavora L'ultimo che finisce? Me ne ha fatto 400 film L'ultimo che finisce? L'ultimo che finisce? L'ultimo che finisce? L'ultimo che finisce? Qual'è la tua firma? Ma come cazzo? Che cosa firmi? Cos'è questa firma? Faccio una firma come il dottore Ti capisci un cazzo? Cosa stai filmando? Video Pai Ma perchè? No 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 Perchè? Ma perchè? Scusa Veramente oggi Dexter è molestissimo Cioè non avete ragione Attenzione Con questo capello super Scusate Magari ero un ragazzino E' il youtuber preferito Chi è? Chi è il tuo youtuber preferito? Ecco il quattro figlio Chi è il tuo preferito? Sodin Eccolo qua Eeeh Chi è il tuo preferito? Cosa c'è? Eeeh non ce li E'. Non lo facciamo Branozio cosa ne pensa di questa Di questa gomanda E' veramente un pronastico Attenzione Ok DITOANNE E' GRANDE E' GRANDE E' GRANDE E' GRANDE E' GRANDE E' GRANDE Siamo qui al pranzo, al pranzo, al pranzo. Il bottone l'hai chiuso o sei bravo? Allora, no, no, l'ho chiuso. Ehm, non è come sembra, non è come stavo cercando di prendere il portafogli. Scusa un attimo, aspetta Dexter e non vuole rubare la videocamera. Allora, ora sono l'ottina, scusa, volevo dire che... Dobbiamo rubare un paio di libri per tutti i suoi guadagni, ovvero zero euro. Guarda, facciamola vedere i nostri telespettatori. Ci diamo cinque euro. Cinque euro? Cazzo, ci stiamo nascondendo. «I storni». Bravo, storni. Bravo, bravo, storni. Gragrata E' morta si Stiamo entrando Siete tantissimi Ciao Mike Ripanzia Dai Mai Con le mani Puliti attenzione Compatti 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 E dopo questa parte di video ragazzi non ho più vloggato Praticamente dal centro commerciale fino a casa qui Non ho più vloggato perché veramente ero distrutto, stanchissimo Dall'evento, dal viaggio e da tutto perché è stata veramente stancata Abbiamo fatto sia io che Giorgio andate e ritorno tutti noi col giorno Ed eravamo veramente distrutti Detto questo ragazzi vi invito a Milano domani probabilmente Sì esattamente domani 8 aprile al negozio Jump di via Non mi ricordo ma quello che ho messo sicuramente è questo per impressione Ci vediamo ragazzi in quel negozio Saremo dalle 15.30 fino a 17.30 per la premozione delle nostre scarpe E poi l'indomani ovvero sabato 9 domenica 10 al Romics Padiglione 8 stand F25 che è lo stand della Illuminati Crew Quindi non vi potete sbagliare perché ci sarà un occhio veramente veramente grande Che noterete subito dall'aldilà Detto questo ragazzi se vi vi è piaciuto invito a lasciare un bel pollicione sotto a questo video Ci vediamo domani a Milano e poi sabato e domenica al Romics Ciao ciao